Oggi 8 di luglio è un giorno triste per l'Uyork. È scomparsa questa notte Sala Roli Graziella, la fondatrice del volontariato dell'Istituto. Una donna eccezionale, Graziella era una vera eroina, perché ha non solo aiutato tanti pazienti a uscire dalla loro malattia o ad accompagnarli fino alla fine della loro esistenza, ma essa stessa ha superato ben sei forme diverse di tumore, l'ultima della quale, circa due mesi fa, ed era quest'ultima la ripresa di un tumore che aveva avuto 30 anni prima e ne è guarita completamente, perché si trattava di una metastasi tiroidea completamente scissa. L'ho vista qualche giorno fa, piena di gioia, piena di vita, come era sempre stato durante tutto il suo percorso nell'ambito della sua attività di volontaria dell'Uyork, e mi aspettavo che Graziella, avendo superato tutte queste problematiche così importanti, e gliel'avevo detto, potesse ambire a diventare una centenaria di lusso. Non ce l'ha fatta, ma non per la malattia che l'aveva colpita, che lei ha sempre sconfitto, ma uno di quegli eventi che non sappiamo concepire e il cui significato non conosciamo. Forse qualcuno l'ha voluta su. Prima del tempo.